Era in possesso di 42 kg di hashish e 8 pistole, il 50enne è arrestato a Ponte Cagnano dalla Polizia di Stato della squadra mobile di Salerno, sezione narcotici. Il reato contestato è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di armi clandestine. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 6 pistole, di cui 4 semiautomatiche e 2 revolver, tutti completi di munizioni. Grazie a tutti.